Nove webinar e un convegno web spaziando dalla corretta gestione del bilancio domestico alla protezione e la previdenza, dalla gestione del risparmio e degli investimenti fino al cambio generazionale. Sono alcuni dei temi scelti da poste italiane per il mese dell'educazione finanziaria, la più importante manifestazione italiana dedicata al risparmio e agli investimenti, giunta ormai alla sua stessa edizione, istituita e promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'attività di educazione finanziaria, nato per migliorare le conoscenze di giovani e meno giovani in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale. Come poste italiane in coerenza con la nostra storica vocazione di azienda socialmente responsabile svolgiamo ininterrottamente nel corso dell'anno iniziative di educazione finanziaria. Risulta pertanto naturale partecipare per il quinto anno consecutivo all'edizione 2023 del mese dell'educazione finanziaria. Il nostro contributo quest'anno prevede numerosi incontri incentrati su molte tematiche utili a ogni cittadino per gestire correttamente la propria pianificazione finanziaria. Il calendario degli appuntamenti prevede due webinar giovedì 5 ottobre, un alle 10 e un alle 16.30, sul risparmio e gli investimenti. Martedì 10 ottobre e giovedì 12 ottobre il tema principale sarà la previdenza. Giovedì 19 ottobre sarà la giornata dedicata alla protezione assicurativa, mentre martedì 26 ottobre sarà il giorno del convegno web dedicato agli obiettivi economici della terza età. Il 31 ottobre, ultimo giorno del mese, altri due webinar su risparmio e investimenti. Una bella novità che abbiamo introdotto quest'anno è l'inserimento nel calendario degli eventi di webinar sottotitolati e tradotti nella lingua dei segni. Avremo quindi degli interpreti LIS che affiancheranno i nostri relatori del team di educazione finanziaria nell'esposizione dei contenuti. Invito poi ogni cittadino a consultare la ricca sezione di educazione finanziaria presente nel sito di Poste Italiane, una sezione dove sono presenti numerose videopillole, un glossario di oltre 500 vocaboli e un'area anche riservata ai podcast per l'educazione finanziaria dei ragazzi che abbiamo intitolato Generazione EF. Per registrarsi basta collegarsi sul sito www.posteitaliane.it nella sezione educazione finanziaria e registrarsi gratuitamente agli eventi di proprio interesse.